Si chiama Malaffare, l'operazione portata a termine dai finanzieri del Comando Provinciale di Messina e riguarda il settore delle indebite percezioni dei finanziamenti pubblici europei e regionali. L'attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Barcellona, si è conclusa con la segnalazione all'autorità giudiziaria di otto persone, ritenute responsabili a vario titolo di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Da qui il Tribunale di Barcellona ha disposto un sequestro di beni e denaro per un valore di oltre 1,2 milioni di euro. In particolare la complessa frode scoperta ha riguardato i fondi destinati all'ammodernamento di un capannone aziendale nell'area dei Nebrodi, precisamente nel territorio di Montalbano e Licona, rispetto al quale indebitamente gli organizzatori della truffa hanno richiesto ed ottenuto importanti risorse finanziarie pubbliche. Più nel dettaglio, gli investigatori economico-finanziari della tenenza di patti, dopo aver passato al setaccio tutta la documentazione acquisita, sono riusciti a dimostrare come le fatture presentate all'Ispettorato dell'Agricoltura di Messina e all'Agea risultassero in realtà emesse da fornitori compiacenti per importi gonfiati, ovvero per costi in realtà ma sostenuti o sostenuti solo in parte. Collegata a questa inchiesta, una società cosiddetta cartiera con sede legale in Albania, del tutto priva di personale dipendente e di struttura operativa. Anche in questo caso è emerso il contributo di alcuni professionisti locali, in particolare si acquisiva dalle indagini come il promotore della truffa si fosse avvalso, secondo l'ipotesi investigativa, del consapevole contributo di un ingegnere e di un geometra, i quali nella loro qualità di direttore dei lavori compilavano in modo artificioso i rendiconti finanziari ed economici presentati all'Ispettorato dell'Agricoltura di Messina utilizzando fatture gonfiate al fine di giustificare la richiesta di finanziamento presentata, ovvero precostituire false prove documentali in ipotesi di successivi controlli. Per questo il GIP del Tribunale di Barcellona ha emesso nei confronti del titolare dell'azienda zootecnica un decreto di sequestro preventivo nella forma per equivalente finalizzato alla confisca di somme di denaro e beni immobili fino a concorrenza dell'importo indebitamente percepito pari a 1,2 milioni di euro. Parimenti nel medesimo ambito la regione siciliana ha bloccato l'erogazione dell'ultima tranche del contributo pari a 40 mila euro.